Stai andando verso quegli alberi. Lasciamo la strada. Cerchiamo di avvicinarci. Lo vedi? No, credo che sia andato dietro a quel cespuglio. Eccolo, a sinistra, di fronte al termitaio. Sì, sì, lo vedo adesso. Penso che sia una femmina. Guarda sull'albero. Fantastico. Una coppia in amore. Che avvistamento. Forse è meglio lasciarli soli stasera. Eccolo, a sinistra, di fronte al termitaio. Tutto cosa, che condizzo, questo è meglio lasciarli soli poco da fare gültere soli.